Sofia Loren, come noto, ha recentemente subito un intervento chirurgico all'Anca a seguito di un incidente domestico. Questo incidente ha coinvolto la leggendaria icona, nota per il suo fascino senza tempo e il talento innato. L'operazione era necessaria a causa della caduta avvenuta nella sua casa a Ginevra. Attualmente, le sue condizioni di salute sono positive e la sua catena di ristoranti ha fornito un aggiornamento sulla situazione. Hanno comunicato che l'intervento all'Anca è stato eseguito con successo e ora Sofia Loren dovrà seguire un breve periodo di convalescenza, seguito da un percorso di riabilitazione. Si prevede che tornerà presto e tutto il suo staff le augura una pronta guarigione.